Qui a Filmogrammi, quindi stasera, Alessandro Pedelli. Ci siamo. Allora, inizierei subito parlando del tema di videogiochi nel senso più ampio. Prima, un po' di anni fa, fino a dieci anni fa, vogliamo dire, il videogioco era relegato più magari a una figura del famoso nerd, quindi del ragazzo che era in camera sua, sempre al buio, col computer, un po' sfigato, tra virgolette, e aveva questa accezione appunto nerd come qualcosa di negativo. Adesso invece sembra che questa concezione sia cambiata, nel senso che il nerd e più in generale il videogioco non è più solo relegato a una figura, diciamo, isolata, ma è diventato comunque fenomeno di costume. Ci sono fiere, temi a tema videogioco, c'è, grazie anche alle piattaforme online tipo Twitch, ci sono professionalizzate anche le figure dei gamer, che sono diventati degli streamer, sono diventati dei professionisti che intrattengono e sono anche capaci di giocare, di creare delle performance nei videogiochi anche molto importanti, fino ad avere i campionati mondiali, come tra l'altro hai affrontato tu nel documentario. Sì. Ultima cosa, il videogioco, proprio per questo motivo che è diventato fenomeno di costume, è anche uno dei mercati più redditizi, nel senso che supera cinema e musica insieme. Che è il primo mercato dell'intrattenimento mondiale. Esatto, con 312 miliardi di dollari, cioè una cifra spropositata, quindi questo per dire l'interesse sui videogiochi è aumentato ed è altissimo. C'è però, tuttora, una parte di popolazione, una parte di persone che ritengono ancora che il videogioco non sia qualcosa di alto, che non sia una cosa importante e che lo rilegano ancora a quella figura lì, un po' infantile, del nerd, del gioco da bambini. Quindi, la prima domanda, la primo spunto di riflessione che ti lancio è, secondo te possiamo parlare di videogioco come arte? Videogioco è arte, secondo te? Beh, dobbiamo parlare di videogioco come arte, esattamente come parliamo di cinema come arte, di letteratura come arte, qualunque forma di comunicazione che si basa appunto sul raccontare qualcosa, sull'espressione del singolo individuo o di un team di individui, è necessariamente arte. Poi c'è arte buona, arte meno buona. Nel cinema ci sono film bellissimi che hanno qualcosa da dire, qualcosa da raccontare, e film orrendi che non hanno niente a raccontare. Nel videogioco succede la stessa cosa, c'è il videogioco che non racconta niente, che non serve a niente, ed è puro magari intrattenimento, come può essere un, non so, un vacanze di Natale, cioè è legittimo che ci sia anche nel videogioco, ma poi ci sono videogiochi di grandi autori, grandi autrici, che invece tentano di raccontare qualcosa attraverso un linguaggio che è appunto quello vedoludico. Per cui sì, assolutamente, in Italia purtroppo siamo un po' indietro da questo punto di vista, facciamo un pochino fatica a interiorizzare i nuovi linguaggi, poi nuovi, parliamo comunque di un linguaggio che ha 40-50 anni, non è proprio nuovissimo. Ma secondo te cosa manca al videogioco per farlo considerare qualcosa di più del semplice intrattenimento infantile, anche da quelle persone che proprio non riescono a concepire come il videogioco possa essere altro se non quello? Manca l'alfabetizzazione sostanzialmente, Quello, nel senso che io sono convinto che se tornassimo indietro agli inizi del Novecento e chiedessimo a una persona di 70 anni il cinema e arte, ci direbbe no. Ci direbbe no, nel 1905, il cinema è nato a 15 anni, chiede a una persona il cinema e arte, sicuramente dice no, a meno che non sia una persona che ha iniziato, come dire, e a vivere anche attraverso quel linguaggio là. Per cui secondo me non le convinciamo le persone che non sono convinte che il videogioco sia una forma d'arte, come non avremmo convinto cento anni fa della stessa cosa persone cresciute in un altro contesto. Quindi tu dici... Semplicemente è il ricambio generazionale che per forza di cose poi aiuterà da questo punto di vista. Questo non vuol dire che non ci siano persone anche di 70 anni, e io le ho conosciute, che invece sono appassionate ai videogiochi, perché magari hanno iniziato 40 anni fa, quando uscivano i primissimi videogiochi, hanno iniziato ad analizzare in qualche modo il linguaggio e a crescere anche con questa nuova forma d'arte. Certo è che il videogioco c'è anche un altro problema ed è inutile che ci giriamo attorno, ed è il muro dell'eseguire dei comandi, non è una forma d'arte passiva come il cinema, per cui basta mettersi davanti a uno schermo, guardare 800 film a un certo punto qualcosa inizia a capire. Il videogioco necessita anche di una piattaforma, un controller con cui si fanno delle cose, e bisogna abituarsi. Bisogna abituarsi, però voglio dire come mia nonna che ha quasi 90 anni si è abituata allo smartphone, ci si può abituare secondo me anche non in giovanissima età a utilizzare un controller. Quindi dalla tua esperienza hai detto che hai conosciuto anche persone più anziane, che hanno iniziato a videogiocare, o comunque che hanno sempre videogiocato da quando sono riusciti i videogiochi, i primi videogiochi, però appunto sono delle pecore nere diciamo, non si tratta delle... Sì, sì, non sono tantissime. Esatto, ok. Però ci sono, dimostra che è fattibile. Ma pensi che il tuo ruolo, anche di essere così presente magari sui social, possa aver in qualche modo influenzato qualcuno ad approcciarsi a questo mondo in modo un po' diverso? Ma io lo spero, nel senso che quello che spero di fare attraverso la comunicazione che faccio sui social è incuriosire le persone ad approcciarsi a questo linguaggio qua. È quello che ho fatto anche col film, con Game of the Year, che racconta del mondo dei videogiochi in Italia, come è sviluppato, come le persone lavorano attraverso il videogioco. Cioè, era tutto un tentativo di invogliare la gente a dire, mazza, magari c'è qualcosa là dietro, c'è qualcosa non solo di interessante, ma anche di importante. Per cui sì, spero che qualcuno si sia sentito stimolato da questa cosa qua. Allora, mi hai già risposto parzialmente, però vorrei ancora affrontare un attimo il tema, perché il cinema, uno dei sinonimi o soprannomi che ha, è Settima Arte. Quando si parla di cinema si dice, è la Settima Arte. Secondo te cosa manca ai videogiochi per essere riconosciuti come prodotti artistici? Non so se mi spiego. È un po' quella cosa che dicevo prima. Ok. Sì, è quello. È quello. Vedete il ricambio generazionale, piano piano, persone che conoscono il videogioco, l'hanno capito, l'hanno interiorizzato, passeranno i loro figli e le loro figlie. Questa cosa qua è di conseguenza... Insomma, poi c'è anche un altro aspetto che è oltre al muro del devo imparare a giocare in qualche modo, poi è vero fino a un certo punto perché ci sono videogiochi straordinari che sono semplicissimi, che basta magari cliccare su un paio di cose e magari ne parliamo dopo. C'è anche il muro della spesa, nel senso che purtroppo il videogioco ancora non è democratico come un libro o come un film, che con 10 euro, bene o male, ti compri un romanzo, ti compri un DVD, un Blu-ray o ti abboni a una piattaforma. Il videogioco ha ancora bisogno di una console o di un computer abbastanza potente, per cui l'ingresso in questo mondo qua costa un pochettino. e io capisco una persona che dice a me non me ne è mai fregato niente il videogioco, magari mi incuriosisce anche, ma perché devo spendere 500 euro per avere lì un oggetto che magari non userò mai e che mi dà accesso a questo linguaggio qua che non so neanche se mi interessa. Per cui questo è un problema. Lo stiamo risolvendo perché man mano che andiamo avanti con la velocità delle linee internet, si stanno sviluppando delle piattaforme come Netflix che ci permettono di giocare in streaming. Nel senso il videogioco sta girando su una macchina potente dall'altra parte del mondo e con la linea internet vi arriva il segnale sul televisore e voi giocate anche senza bisogno di una console, di una macchina, di una macchina da gioco, di un computer. Per cui ci arriviamo anche a questa cosa qua. E sono tutta una serie di cose che... Col tempo, col tempo. Bene, hai citato infatti Netflix, hai citato le piattaforme streaming e proprio su questo abbiamo preparato una piccola clip, una piccola attività da fare qui perché nel 2018 c'è stato una specie di tentativo, se vogliamo, di creare da parte di Netflix una serie tv, un film che fosse interattivo, quindi che superasse un po' quella soglia di cui parlavi prima, del fatto che il cinema lo subisci, perché è un'arte passiva, mentre il videogioco può interagire. Creando Bandersnatch, Black Mirror, Netflix ha provato proprio a fare questa cosa qui, ha provato a dare la possibilità all'utente di cambiare quello che sarebbe poi successo nella storia grazie alla propria scelta, che è molto simile al concetto di videogioco, non è una cosa nuova, esistevano già i gamebook quando ero bibbo anch'io. Però ecco, questo è stato magari un primo tentativo e anche una somiglianza tra videogioco e cinema, diciamo. Quindi, se la regia è pronta, io farei provare Alessandro a fare i primi minuti di Bandersnatch. Cosa ne pensi di Bandersnatch? Come esperimento? Allora, secondo me è un esperimento interessante, lo trovo comunque un po' goffo, nel senso che preferisco quando il videogioco prende degli elementi linguistici dal cinema e li porta nel suo, piuttosto che il contrario. Nel senso che il grande problema di Bandersnatch è che se ti metti sul divano la sera perché vuoi vedere un film, non vuoi prendere delle decisioni, vuoi un tipo di, come dire, di racconto passivo al 99%, se no giochi un videogioco. E poi c'è anche un grande problema che è, paradossalmente, questo film qua ha un punto di vista meno chiaro di un videogioco tradizionale, proprio perché essendo che ci sono 400 scelte diverse per portare avanti la narrativa, il racconto non ha necessariamente un punto di vista univoco, che secondo me è necessario per definire poi un'opera, un'opera d'arte compiuta, che ha qualcosa da dire di molto specifico. Diciamo che si potrebbe dire che quello che ha in comune col cinema è che i videogiochi come Bandlesnatch, ad esempio, ti danno l'illusione della libertà, quando in realtà non sei completamente libero, nel senso, sei libero entro i parametri dallo sviluppatore, sei libero entro le scelte che hanno già programmato che tu possa fare. Assolutamente, però essendo che ci sono tante linee narrative che si intrecciano, il punto non è uno e basta. Come dire, il punto d'arrivo non è... o forse è uno, non mi ricordo, no, forse ce n'è uno, il punto d'arrivo, però quello che stai dicendo nel percorso è diverso ogni volta e quindi non mi affascina così tanto, cioè non lo reputo così interessante, però è un tentativo, cioè è una cosa. Ok, e secondo te il futuro del cinema può passare da questi esperimenti? Il futuro del cinema e delle serie tv, dell'intrattenimento, vedremo sempre più queste cose? Passerà molta più interattività? No, assolutamente no. No, ed è giusto che non sia così, cioè è giusto che questo sia un esperimento, una tantum e infatti non è andato neanche benissimo, cioè non è che l'ha rifatto, l'ha fatto quella volta lì. È un po' come come cita anche il protagonista, un libro game, il libro game adesso magari dico una sciocchezza, però non mi sembra di ricordare grandi capolavori della letteratura tra i libri game ed è un po' quella roba là, cioè è un giochino, letteralmente un giochino. Ti ho chiesto questa cosa anche perché come ben saprai è appena uscita la notizia, è appena uscito i primi modelli dell'Apple Vision Pro. L'Apple Vision Pro si pone un po' in una prospettiva un po' diversa da quello che siamo abituati sia per quanto riguarda i videogame perché di solito per giocare a un videogioco sei tu con il tuo schermo davanti, quindi c'è anche un distacco volendo e hai un controller in mano per la maggior parte delle volte mentre il cinema sei o davanti alla tv o sempre davanti a uno schermo appunto oppure in un cinema che è un'esperienza ancora diversa. Questa nuova possibilità che ti dà l'Apple Vision Pro di vedere proiettato nell'Ethere le schermate si potrà in qualche modo incastrare con avere nuove forme di videogiochi nuove forme di intrattenimento? Sì e ce le ha già nel senso che l'Apple Vision Pro che per chi non lo sapesse è il visore per realtà mista di Apple che è uscito neanche un mesetto fa al modico prezzo di 4.000 euro non proprio una roba alla portata io ho avuto la fortuna di provarlo per un po' proprio perché lavoro tanto con la realtà virtuale ma ci sono visori per realtà virtuale e realtà mista che costano un decimo e sono fuori già da anni e hanno dato vita a esperienze secondo me straordinarie dentro il catalogo dei videogiochi in realtà virtuale c'è veramente una serie di cose ci sono una serie di cose straordinarie c'è dei videogiochi veramente incredibili che non puoi fare in altro modo perché sei tu dentro uno spazio che ti muovi dentro quello spazio e con delle possibilità ad esempio vi faccio un piccolo esempio c'è un videogioco che si chiama Before Your Eyes che è un videogioco per il visore di Playstation 5 perché dico questo perché il visore di Playstation 5 c'è anche un sensore che rileva dove il vostro occhio sta guardando e se è aperto o chiuso questo videogiochi inizia con il protagonista che muore e viene portato da questa sorta di caronte verso l'aldilà e durante questo viaggio questo personaggio vi racconta la vostra vita perché voi morendo ve la siete dimenticati adesso è un incipit di questo tipo qua e quindi mentre ve la racconta voi guardate con i vostri occhi la vita del personaggio che state interpretando tra virgolette ma ogni volta che sbattete le palpebre il tempo va avanti di un anno due anni cinque anni e quindi vi perdete dei pezzi della vostra vita fino a un colpo di scena finale però questa cosa qua la puoi fare soltanto con un visore per alta virtuale perché uno schermo non c'è un sensore che guarda direttamente dove stanno guardando i vostri occhi e riesce a fare questi calcoli qua è un'opera basata sulla tecnologia però un'opera straordinaria che ha da dire tante cose e non vi svelo quali sono perché dovete giocarlo dovete recuperarlo in qualche modo però sì il mondo della realtà virtuale ha tantissime cose da offrire secondo me è molto di più la realtà virtuale che la realtà aumentata adesso è un po' complicato se non conoscete però la differenza tra realtà virtuale e aumentata è che la realtà virtuale vi mettete un visore siete in un mondo totalmente diverso da quello che avete intorno cioè un altro ambiente ricostruito totalmente in 3D la realtà aumentata è voi vi mettete il visore vedete quello che avete intorno cioè come vedete così però ci sono degli elementi in più digitali tipo uno zombie che cammina qua in questa stanzetta questa cosa qua secondo me è la seconda paradossalmente meno interessante cioè inserire nel mondo vero degli elementi boh perché cioè sì ci puoi fare delle cose carine delle cose secondo me più di lavoro più di però rispetto al videogioco la narrativa meno ok e vorrei tornare un attimo al discorso cinema e videogioco e su come queste due realtà si intersecano si donano delle varie influenze viceversa e direi possiamo partire con la prossima clip poi introduciamo l'argomento se attra l'argomento si attra 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 l'argomento attra 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 Scusate! 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 Ok! Ok! Hop on! Sam, get in the goddamn car! I'm faster! Stop arguing! Watch out! Oh shit! Get out of here! No blimmin' way could have survived that! Wide chauncing! Dammit! That's not good! Holy shit! He's not alive! Get out of here! Hop on! Got it! Here, take this! Shoot the damn truck! Shoot the damn truck! How we doin' back there? Not good! Not good at all! Keep shootin'! I am! puedo! I hate this truck! Hang on, Nathan! No! 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 We're gotta be close! Holy shit! Yeah. You're good? Yeah. Alright, let's get out of here. Ok. Perché ho scelto questa clip? A parte che penso che sia un bel videogioco, Uncharted, per chi non lo conoscesse, è un videogioco che tratta di un'avventura di questo Nathan Drake che è un cercatore di tesori che si un po' è Indiana Jones. È letteralmente Indiana Jones. È Indiana Jones. E questa scena in particolare mi ha colpito perché dal punto di vista proprio registico, quindi come se fosse un film, è molto ben girata. È molto adrenalinica, i movimenti della telecamera sono sempre... seguono bene l'azione, è interessante da vedere. e noi sappiamo che appunto nel cinema c'è il regista, il direttore della fotografia, eccetera. Se puoi spiegarci un po', grosso modo, come funziona la creazione di un videogioco, chi c'è dietro, se c'è un team, di cosa si occupano? Sì, allora, in realtà la differenza tra una troupe cinematografica e il team che realizza un videogioco non è così diversa. C'è un regista, c'è chi scrive la storia, c'è una sceneggiatrice, c'è un direttore della fotografia, c'è chi pensa alle luci, ha come ha illuminato il set, c'è chi pensa a come muovere la camera. Cioè, le figure sono quelle, un sound designer, chi fa la colonna sonora, eccetera, eccetera. In più ci sono poi i programmatori, c'è persone che scrivono il codice effettivo del gioco, persone che modellano i personaggi, però anche queste ci sono anche nei film con gli effetti speciali, insomma. Sono truppe veramente molto 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 simili ormai. Una volta, ai tempi di quella scena di Bandersnatch, i giochi si facevano magari in 3-4 persone, tutti facevano un po' tutto, il programmatore che pensava proprio al gioco scriveva anche la storia, pensava alla messa in scena. Oggi invece è tutto molto definito, una troupe, c'è un team grosso come quello di Uncharted, di questo gioco qua, è un team che secondo me ha, boh, saranno 800 persone, quelle di Naughty Dog, un migliaio di persone. Che è, come dire, il numero di persone, anche di più, il numero di persone che servono per fare Mission Impossible, sostanzialmente. E i budget poi sono anche analoghi. Quindi questa similitudine poi si riporta in una vera e proprio effettiva similitudine di quello che vediamo. Di approccio. Di approccio. Questa scena probabilmente un regista con la sua troupe l'avrebbe girata in modo molto simile. Con la differenza che qui è più bello, ti offre molte più possibilità banalmente, come l'animazione. L'animazione ovviamente offre più possibilità del cinema in live action, perché la camera la puoi mettere dove vuoi. Questo che abbiamo visto è un piano sequenza, non c'è uno stacco. Una scena action così, in un film, in live action, io non l'ho vista. Se c'è, ce ne sono molte cose, perché è difficile fare sette minuti, sei minuti di piano sequenza con il seguimento, a precedere, da dietro, entrare sul primo piano del personaggio, riuscire a seguire quella roba là. Intanto va pensata al millimetro. Questa è la cosa che mi fa impazzire, perché non hai una reference poi nel reale. Il bello, secondo me, è che parlano poi lo stesso linguaggio. Cioè noi parliamo di piano sequenza sia per questa scena che per un film. Assolutamente. E a tal proposito, anticipo una cosa che trattiamo dopo, ma c'è un game director che si chiama Hideo Kojima, che qualcuno, tra cui tipo Nicholas Winding Refn, famosissimo regista contemporaneo, ha definito il più grande regista della storia del cinema, ed è uno che non ha mai diretto un film, ha solo diretto videogiochi, però li ha diretti con quell'approccio lì, cioè con un approccio cinematografico e una forza espressiva straordinaria. infatti abbiamo una clip proprio di Kojima. Grazie a tutti. 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 particolare anche perché ci sono stati utilizzati come si possono vedere, non so se li avete riconosciuti sono degli attori veri, degli attori di Hollywood famosi che hanno realizzato una tecnica che si chiama motion capture quindi si può parlare tranquillamente di un regista che dirige anche degli attori quanto conta la poetica di un regista che in questo caso è un game director all'interno di un videogioco e quanto può aiutare un videogioco a essere anche considerato molto bello dal pubblico dalla critica. Beh è fondamentale esattamente come il cinema abbiamo visto e vediamo spesso prodotti cinematografici che nascono dalla volontà di uno studio di fare dei soldi è legittimo perché il cinema è un mercato, anche il videogioco è un mercato per cui esiste quel tipo di produzione penso i prodotti non so sui fumei i cinefumetti soprattutto negli ultimi dieci anni sono soprattutto quella cosa lì arriva adesso non so di chi sono i diritti dell'MCU di Sony arriva e dice ho questo personaggio che è seguito da 30 anni 40 anni mi metto là 200 milioni fatemi tornare un miliardo e questo è come nasce non so Madame Web un film così un film allo stesso modo ci sono videogiochi che nascono così nascono perché devono far cassa devono far soldi poi ci sono invece dei film e dei videogiochi che nascono per un'esigenza espressiva questo questo videogioco qua che è Death Stranding nasce da un'esigenza espressiva che è quella appunto di Hideo Kojima che è un game director che oggi ha 60 anni 61 anni non è che cioè voi vedete questa roba magari pensate ah questo è frutto della mente di un giovane ragazzo no un sessantenne che fa videogiochi da tutta la vita e che ha qualcosa da dire adesso nonostante questa clip molto bella sembra un po' Jurassic Park in realtà il videogioco è un'altra cosa il videogioco parla di parla della connessione tra esseri umani adesso è molto complicato da spiegare però fondamentalmente voi interpretate questo questo porter questo questo personaggio che è un postino qualcuno la gente lo prende in giro sto videogioco dicendo che è un simulatore di 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 postini perché di fatto quello che dovete fare è portare dei pacchi da un posto all'altro in questo mondo post apocalittico che ha bisogno di essere riconnesso no ci sono delle piccole città dei piccoli insediamenti in tutto il mondo il vostro compito è quello di portare internet tra virgolette e ricollegare le persone per far sì che si uniscano come era come era un tempo per cui è anche un tema abbastanza importante trattato con una sensibilità straordinaria per cui sì e questa cosa la fai solo se sei un autore un'autrice e hai bisogno di dire quella cosa là non lo fai sicuramente per i soldi perché non è neanche è andato benissimo perché non è un videogioco in cui accendi spari a tutti e finisce l'anzi non spari per tutto il giorno non ci sono neanche le armi c'è solo un gioco in cui devi riconnettere il mondo in qualche modo e in cui la tua soddisfazione è data dalla fatica che fai tu e fai il tuo alter ego nel fare questa cosa qua che è difficile non è difficile connettere le persone e quindi ti arriva proprio perché lo fai te e lo fai con grandissima fatica sì si differenzia un po' dagli altri videogiochi anche per questo motivo e quindi quello che la mia domanda è un po' anche provocatore tra virgolette e può esistere una politica degli autori nel campo videoludico cioè per chi non lo sapesse in Francia c'è stato un movimento che ha rimesso al centro la figura del regista in un momento in cui Hollywood metteva al centro più quella che era la storia l'incasso la forma più che la sostanza mentre in Francia hanno detto il regista di un film non è solo quello che organizza le cose sul set è anche quello che dà la propria idea del film quello che vuole appunto dire qualcosa secondo te è possibile traslare questo concetto in un futuro videoludico creeranno si formeranno molti più game director con l'intento di dire qualizzati ma in realtà questo è già successo è successo prevalentemente in Giappone dove nasce di fatto il videogioco se pensiamo agli anni 90 con personaggi tipo Kojima Mikami tutto il team Silent sono tutti personaggi sono tutti team che avevano una direzione molto specifica che potremmo definire magari definiremo tra qualche anno come abbiamo definito oggi a Novel Bug questa cosa c'è già semplicemente dobbiamo cercare di decodificarla perché poi il videogioco ha un problema gigante in realtà che è come se noi il cinema lo chiamassimo video ok il video è tante cose può essere un film può essere un video su youtube può essere un video su tiktok può essere una partita del mulino bianco cioè un video può essere mille cose e purtroppo anche il videogioco può essere mille cose può essere Death Stranding che è un videogioco che racconta qualcosa che è una narrativa che finisce in X ore perché poi c'è anche questa no si dice a volte giochi sempre no questi giochi sembra che i videogiochi siano infiniti no i videogiochi hanno una durata un charted che abbiamo visto prima dura una decina di ore i videogiochi non sono perpetui nel tempo hanno una durata esattamente come un film è come un romanzo il problema appunto del videogioco è che c'è questa cosa qua e poi c'è FIFA che è la simulazione del calcio oppure c'è lo sparatutto online che fai quello sì in modo per sempre potenzialmente no c'è dentro il videogioco che simula uno sport che inventa uno sport nato per la competizione nato per raccontare qualcosa nato per streamare per essere streamato su una piattaforma web c'è quello sul cellulare con le caprette le mucche no com'è che si chiama quello di Facebook c'è Candy Crash c'è Candy Crash c'è il videogioco e tante cose e quindi forse arriveremo a decodificarlo e a dar dei nomi a una serie di opere a una serie di autori solo quando cambieremo il nome di questa cosa qua perché chiamarli videogiochi è strano da una parte hanno dentro così tante cose che non ha più senso chiamarli soltanto videogiochi e dall'altra hanno anche dentro gioco la parola gioco che ti fa sembrare che sia non qualcosa di infantile sì tornando sul discorso cinema che siamo siamo quasi addirittura d'arrivo ma in realtà c'è questo trailer che ha provato a partire un po' di volte che adesso finalmente vediamo che ci introdurrà al prossimo argomento ma dove siamo ho la sensazione che non siamo più a Brooklyn Stacy Stacy guai a voi se la toccate Mario sono fratelli sono idraulici oh no Mario Luigi sono sulle tracce di una principessa rabita e di una pietra mistica che conferisce a chiunque la possegga il potere di dominare l'universo voglio quella pietra vieni a prenderla figlia di una lucetta traulici ora devono liberare la principessa Luigi esperi alieni in puga e tornare sani e salvi allora ciao ci si vede nella nostra dimensione tutto bene prima che sia troppo tardi sparagli uccidete quelli traulico attento Mario prendetelo si non si fermare oh no un'altra volta il Super Mario Bros il Super Film questa volta non è un gioco il Super Film mi è quasi venuto un attacco e pilè sto tre cosa ne pensi di questo capolavoro del 1993 1993 vuol dire tante cose intanto diciamo questo è il trailer del film del primo film tratto da Mario Bros che credo che tutti conosciate è uscito nel 90 93 93 per il sanno di 90 da tutti ed è l'interpretazione che non è cambiata tanto che da Hollywood al videogioco ora voi avete visto due clip tratte da due videogiochi questa cosa qua vi sembra simile no è un'altra cosa è l'interpretazione di Hollywood di quella cosa lì che chiaramente non ha capito cioè non ha capito poi capisco anche quel problema che è tratto da un videogioco che non ha una storia è comunque un capolavoro Super Mario però è un capolavoro di design di game design e lì è un argomento un pochino più complesso perché adesso non so se vogliamo addentrarci in questa cosa qui però vabbè è un elemento cioè l'elemento grammaticale più importante del videogioco è il game design adesso le scene le cose la regia sono tutte rubate dal cinema l'elemento portante del videogioco è il game design e se dici qualcosa attraverso il game design hai vinto tutto senza rubare senza rubare dal cinema comunque era un videogioco che non aveva una storia ovvero la storia c'era ma è devi salvare la principessa solo che il nome era così importante che hanno voluto prendere quel franchise quell'IP e trasformarla in un film fallendo miseramente perché poi il film andò malissimo non rietrò neanche degli incassi se non sbaglio e però fu come dire fu una lezione ad Hollywood no? Super Mario che poi continuò a non capire perché ne fecero molti altri ricordo Mortal Kombat Street Fighter un sacco di queste cose qua però ecco questo è come non si fa un film tratto da un videogioco ecco come non si fa un film tratto da un videogioco così così esattamente perché non è tanto cambiato cioè sì ovviamente ci sono stati degli esempi più virtuosi se vogliamo un po' più carini anche da vedere però la realtà dei fatti è che quando esce un film che la cui storia la cui trama i cui personaggi sono tratti da un videogioco nove volte su dieci otto volte su dieci si rivela essere un flop si rivela un un disastro dalla parte critica del pubblico come mai quali sono gli elementi che Hollywood continua a sbagliare a non riuscire a capire e di non inserire un po' perché lo vede come prodotto perché Hollywood vede il videogioco come un prodotto da prendere e come dire e provare a farci dei soldi con un film che è una cosa che fanno chiaramente spessissimo e ripeto come dicevo prima lo continuano a fare con i fumetti non vedo perché non debbano farlo con i videogiochi ci sta è una tecnica per per tirare su dei soldi la vera domanda è come si dovrebbe fare un film tratto da un videogioco o se si dovrebbe fare perché non è necessario non è che come dire non è che ce l'ha prescritto il medico di fare Super Mario il film anche chi se ne frega esatto esiste già il videogioco è irrilevante che ci sia ma se proprio dobbiamo farli allora dobbiamo fare esattamente come facciamo i film belli cioè darli in mano a delle persone che hanno qualcosa da dire attraverso quella storia là che ci hanno visto qualcosa che la sento vicina infatti mi viene in mente secondo me l'unico film decente tratto da un videogioco è il primo film di Silent Hill Silent Hill è un videogioco straordinario horror di fine anni 90 giapponese e nel 2006 se non sbaglio Gans non mi ricordo il nome mi ricordo il cognome che è Gans ti ricordi il nome? assolutamente Ali Gans questo film tratto da quel videogioco e si vede che ce l'aveva dentro quella roba là cioè si vede che l'aveva interiorizzata non è un capolavoro però è un film interessante che ha una visione quanto meno autoriale cosa che manca tutti gli altri film tratto i videogiochi non è anche una questione magari di fan base cioè il videogioco nasce come videogioco si crea un pubblico si crea una una cerchia di persone che lo amano in quanto videogioco che amano le sensazioni che hanno provato mentre giocavano e poi quando vedono il film trovano tutte le loro aspettative deluse quindi magari è anche una questione un po' di aspettativa sì è la stessa cosa che ha pensato Hollywood infatti a un certo punto ha cambiato registro ma ha sbagliato anche là perché la vera verità è che i videogiocatori sono stupidi prevalentemente cioè videogiocatori e videogiocatrici non è che siano gente illuminata purtroppo soprattutto la gente che si affeziona tantissimo a determinate opere perché magari si affeziona cioè non si affeziona veramente all'opera il più delle volte si affeziona come si è sentito sentita mentre giocava a quel prodotto lì a quell'opera lì per cui poi nascono cose tipo Sonic di cui adesso parliamo e tipo The Last of Us che vabbè adesso ci arriviamo anche a qualcosa esattamente abbiamo proprio un esempio su questo argomento che è il film di Sonic I'm Sonic a little ball of super energy in an extremely handsome package on my planet people were always after my powers so I came to yours it gets a little lonely but that's okay I am living my best life on earth uh they're coming for me if they steal my power they could conquer the universe you have to help me no I don't please it's life or death Super Sonic I'm going to give you five seconds to tell me where it is whatever this creature is I'm going to uncover the source of its power yeah uh oh here comes the boom how are you not dead I have no idea this is my power and I'm using it to protect my friends let's go let's go what's happened what's happened it's been announced the film of Sonic the famous game and they released the first trailer the first trailer with a design of the character that he has left in many scontent let's say he has left in many people a little strange from the character what's happened Sonic and the house of production that was making the film si è vista bombardare nei commenti nei social nell'email dovunque una vera e propria tempesta di gente che diceva che cosa avete combinato con il personaggio questo non è il personaggio non il film sembra brutto esatto il design del personaggio non mi piace rifatelo rifatelo l'universal ha messo 60 milioni e ha rifatto il personaggio ha rifatto tutte le scene in cui il personaggio compariva da zero quindi spendendo il doppio probabilmente di quello che avevano pensato di spendere e questo è un breve video che vi mostra il primo trailer uscito con quello che poi effettivamente è uscito al cinema a prescindere dal fatto che il film sia bello o brutto è brutto ok l'abbiamo detto no va sotto lì giusto quanto è giusto quanto è corretto che il pubblico abbia questo potere è totalmente sbagliato ecco questa è una delle cose brutte di internet cioè un film non si materializza in una settimana per fare un film ci vogliono mesi anni per cui qualcuno il primo design l'ha approvato cioè l'ha pensato sono state fatte delle riunioni per approvare quel design lì e se hanno deciso che quello era il design giusto perché poi poi arrivano 500 mila persone su internet a urlare no non mi piace rifarlo e si rifà io lo trovo aberrante nel senso che intanto è una mossa codarda perché se hai deciso che quello era il design quello deve essere il design cioè a prescindere da tutto e poi dà in mano al pubblico il potere decisionale e il pubblico non deve avere potere decisionale al limite deve scegliere se guardare un film o non guardarlo al limite no deve scegliere però quello deve fare non è che deve decidere come sono i personaggi come la storia eccetera eccetera tradisci poi quello che è l'intento artistico esatto e diventa stai sottolineando il fatto che è un prodotto solo di mercato devi solo vendere delle copie e strappare i biglietti sì sì perché sai già che probabilmente quel film non lo andranno a vedere che non le incasterai quindi non si parla più magari di arte di scelte ma di puro e semplice mercato di accontentare il pubblico e a proposito di videogiochi che diventano un film e serie tv abbiamo l'ultima clip che è uno spezzone di The Last of Us Il pubblico Il pubblico Sera Honey I need you to get your daddy on the phone Uncle Tommy what time is it? I need you to talk holy hell that's Lewis' farm I hope that son of a bitch made it out Oh my god It's Jimmy's place Yes sir Somebody we've just been through hell We just need Shit I'm sorry Please don't Oh no What's ETA? Couple minutes Sorry Oh fuck No 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 I'm not sick I am not sick I'm not sick Look Look This is three weeks old Nobody lasts more than a day It's three weeks old Everyone turns within two days So you stop Bullshitting It's three weeks I swear Can you explain The Last of Us The Last of Us Videogioco Serie Cosa ne pensi Le differenze Allora Videogioco È intanto Videogioco Che ormai Ha Dieci anni The Last of Us Perché è 2013 Non sbaglio È un videogioco È un videogioco Che forse è stato Il primo videogioco Ad aver dimostrato Al grandissimo pubblico Che era possibile Esperire Di un'esperienza Veramente cinematografica A livelli molto molto alti Attraverso appunto Il medium videoludico Questo grazie alla scrittura Perché è un videogioco Scritto molto molto bene Grazie alle interpretazioni Degli attori e delle attrici E grazie a una regia Straordinaria Che è quella di Neil Druckmann Che ha appunto Diretto il videogioco È un videogioco Vabbè Che racconta Di questa Di questo Mondo post apocalittico In cui ci sono Delle specie di zombie E Si viene imorso Di trasformi subito Ma questa ragazzina È stata morsa Un mese fa E non è Non si è trasformata Per cui È una sorta di On the road In cui un personaggio Deve portare sta ragazza Dall'altra parte Dell'America Per fare Non vi svelo Anche qua Cosa Però per Per capire Cosa Cosa succede L'anno scorso O no Due anni fa Quando è uscita la serie Due anni fa Due anni fa HBO Ha rifatto Il videogioco Come serie televisiva E A me Non è piaciuta Ok Premessa Adoro il videogioco Secondo me È straordinario La serie Non è orrenda Perché è scritta bene Interpretato molto bene Però è diretta Paradossalmente Molto peggio Ed è curioso Il fatto che Una serie tv Di HBO Sia diretta Molto peggio Di un videogioco Ma proprio come scelte Stilistiche Di messa in scena Di inquadrature C'è una Una scena Che cito spesso Per dimostrare L'inferiorità Della serie Rispetto al videogioco All'inizio All'inizio avete visto Quella scena In cui Un militare Spara Al padre E alla figlia No Poi si Qua era tagliata Però È il grande Golpo di scena Dei primi 20 minuti Del videogioco Nella serie È fatta uguale Con la differenza Che le inquadrature Sono diverse Ora Nel videogioco La scena è pensata bene Perché Quando lui va verso Il corpo della figlia Adesso è difficile Spiegare la parola E spero di Farmi capire Quando lui va verso Il corpo della figlia C'è un'inquadratura Larga Che ti fa vedere In cui Al centro dell'inquadratura C'è il suo orologio rotto Perché è stato colpito Dal proiettile Che ha colpito lui E la figlia E già quella cosa là Ti dice tantissimo Piano piano Mentre la figlia Sta morendo L'inquadratura Si stringe Sul primo piano Del protagonista E della figlia Per cui Capisci la situazione Entri dentro Alla scena Entri dentro L'emozione Del momento Nella serie Questa stessa scena È girata In modo Completamente insensato Nel senso che Loro Cadono a terra C'è un primo piano C'è un altro piano Poi esci Quindi ti allontani Da Da spettatore Da quello che sta succedendo Poi rientra sul primo piano Poi vai sulla larga Dove dovresti vedere Questo elemento importantissimo Perché poi L'orologio Che lui si porterà Fino alla fine Del racconto Fino a molti anni dopo Anche se non funziona Perché è rotto Ma gli ricorda la figlia Ma lui L'orologio ce l'ha di qua E quindi non è inquadrato E questa è sempre una sciocchezza Però ti dimostra come Di là Cioè nel videogioco Ci abbiamo veramente pensato A come mettere in scena Quel momento lì Nella serie no Nella serie è un po' Cioè giriamola Ah ok È fatta così Dai più o meno Giriamola uguale Però senza Infatti Non state ci sia dietro L'autore originale La prima puntata Non l'ha diretta Nel Drakman Che è il regista Del videogioco È tutto molto complesso Spero di Ma Da pochi esempi Che abbiamo avuto Secondo te Può funzionare meglio Un tipo di Adattamento Al videogioco Da videogioco A A serie Che non ha cinema Ma secondo me È irrilevante Irrilevante Dipende come lo dirigi Sì Dipende cosa hai da dire Anche perché poi Parliamoci chiaro Nel videogioco Magari un videogioco Che dura dieci ore Di narrativa Di racconto Ci sono due ore Il resto giustamente È gameplay Perché è qualcosa Di cui devi fare Tu esperienza Giocando Muovendo il personaggio Quindi non è che Serviva Anche lì De la sua fase Il videogioco Dura dieci ore La serie Tutta di fila Dura più o meno Dieci ore È un po' troppo Perché nel videogioco Ci sono otto ore In cui tu vai in giro Cammini Scopri il mondo Quello poteva essere Un bel film da due ore Sì Hanno allungato Chiaramente Hanno allungato Le esigenze Poi non è Cioè appunto Non è una brutta serie Però la trovo Profondamente inferiore Al materiale originale E quali sono Secondo te I I videogiochi Che hanno un buon potenziale Cinematografico Ti vedi in mente qualcosa In particolare Che potrebbe essere bello Da vedere come film Beh Death Stranding Che stanno tra l'altro Producendo A24 ha annunciato Che sta facendo Il film di Death Stranding Potrebbe essere interessante Perché secondo me Se lo affidano a qualcuno Chiaramente Se non a Kojima stesso Eh sì Speriamo Speriamo Vediamo cosa succede Però ecco Trovo più interessante Quando Chiudendo un po' Tutta la parola Di cinema e videogioco Quando È il cinema appunto Ad avvicinarsi al videogioco E Voglio darvi un piccolo consiglio Di un videogioco Così Perché mi è venuto in mente adesso C'è un videogioco Che si chiama Immortality È un videogioco Di due anni fa Di Sam Barlow Che ha vinto i BAFTA Tra l'altro Quell'anno lì Ed è un Gioco incredibile Perché Sostanzialmente Funziona così Voi avete È come se voi Foste dentro Una sala montaggio E avete Ottocento Novecento Mille clip Di tre film Che sono stati girati Uno negli anni Sessanta Uno negli anni Settanta Uno negli anni Novanta Più Materiali Cioè Prove di quel film là Table reading Feste Legate a quei film C'è un sacco Di materiali Legati a questi tre film In cui c'è Un'attrice Che Per la narrativa Del gioco Ha realizzato Solo questi tre film Quello che dovete far voi È guardarvi le clip Le singole clip Che magari durano un minuto E cliccando su un elemento Di quella clip Tipo c'è una scena Con lei Nel fin degli anni Sessanta Che ha una collana Cliccate sulla collana E vi sblocca Un'altra clip In cui lei ha quella collana O dove c'è quella collana lì Facendo così Voi riuscite A ricostruire Tutta la storia Tutta la narrativa Che c'è dietro Al racconto Però senza Cioè senza muovere Dei personaggi Senza far cose strane Semplicemente Guardando del cinema Ed è del cinema Di altissimo livello Perché sono tre film Che sembrano veri Cioè invece Sono tre film Inventati E questo è un modo straordinario Secondo me Per unire cinema E videogioco Più che Bandersnatch Che è un film Con due scelte Certo Quindi immortality Immortality Segnati Straordinario Perfetto Noi Allora Abbiamo anche Volendo finito C'è la possibilità Se vi va Se avete qualche curiosità Di fare qualche domanda Se avete delle osservazioni Di fare Di chiedere ad Alessandro Qualsiasi cosa vi venga in mente Che abbiamo affrontato Prego Secondo me è fondamentale Cioè è fondamentale Una sorta di educazione All'immagine Che può essere Sia a livello cinematografico Che a livello videoludico Perché I bambini e le bambine Devono capire da subito Che quella cosa là Può essere tantissime cose Cioè Dovrebbero studiare Già Dalle elementari Secondo me Che cos'è un film Che cos'è un videogioco Anche per riconoscere Cos'è un buon film E un cattivo film Un buon videogioco E un cattivo videogioco Anche perché purtroppo I videogiochi Possono essere pericolosi Quelli Quelli sbagliati Cioè Quelli che nascono Solo per Farti spendere tempo Farti spendere soldi Per cui Invece che demonizzare No Quel tipo di linguaggio lì Bisognerebbe far capire Un po' tutti quanti Bambini Genitori Soprattutto genitori Paradossalmente Che c'è del buono Anche là Però bisogna indirizzare Perché se no Se un ragazzino è perso Gioca alla roba Che va di più Che vede Apre TikTok Vede Che il videogioco Più giocato È una roba Dove tutti si sparano E pensa che sia quella cosa lì Per cui sì Secondo me È fondamentale Però Ci vorrà del tempo Eh sì È esatto L'altro problema È anche quello Che si parla poco Attraverso i media tradizionali Di videogioco Adesso qualcuno Ci sta Ci sta provando Non so se Sono andato Settimana scorsa Ospite dal buon Emilio Cozzi Non so se conoscete Un giornalista Molto bravo Su Radio 24 Ha aperto Una trasmissione Parla di videogiochi E lui ci prova Da tantissimi anni A portare il videogioco Anche in radio In tv Eccetera eccetera Però è molto 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 difficile Anche per questo Rimane una cosa Un po' di nicchia No Uno magari vorrebbe Capire qualcosa di più Però cavolo Ti devi informare Su siti specifici Capirci tra Un miliardo di cose Che escono Di prodotti Per cui è complicato Però Ci sono due o tre Magazine online Di videogiochi Un po' come fossero Il Corriere Ma Del videogioco Che pubblicano notizie Trailer cose E magari si può iniziare da lì Dando un'occhiata Non so Multiplayer.it Che è forse il più Il più famoso Sito di videogiochi Si va lì Ogni tanto Si scorrono le notizie Magari si scopre Qualcosa interessante Però sì Anche su quello Purtroppo ci vuole Ci vuole Io sogno un mondo In cui In un palinsesto Televisivo C'è almeno Una trasmissione Sul videogioco Però se ci pensa Neanche di cinema Si parla così tanto In tv A me fa un po' Cioè mi affascina molto L'intelligenza artificiale Credo che se fossimo Se fossimo Un'umanità Consapevole La useremmo Per fare delle cose Intelligenti Temo Che invece Verrà usata Per cose Un po' meno Nobili Però insomma Mi spaventa anche Il fatto che Non so Per creare un'ambientazione Di un videogioco Penso Red Dead Redemption 2 Grande western Del videogioco Uscito 4-5 anni fa Lì ogni villaggio È costruito Con una ricerca Di quell'esatto periodo storico Di come erano le mattonelle Di come Di come era la sabbia Per terra E di come si Non so Adesso mi ricordo Tutte robe di ricerca Che sono però studiate Esatto Da esseri umani Mi spaventa Un mondo in cui Scriviamo su un prompt Creami un ambiente western E i videogiochi Li facciamo così Perché a quel punto Perdono Ancora più La loro autorialità Ma è già Osteggiata questa cosa E un pochino L'assangio a facere Perché era uscito Mi sembra Il 3 No Gli titoli di inizio Della serie Di Marvel Di Marvel Sempre loro Esatto E in realtà Le reazioni Non sono state Per quanto magari Possono essere anche Visivamente belle Affascinanti Queste immagini La reazione È ancora un po' Di paura Giustamente Visto che comunque Ci lavorano degli artisti A film Videogiochi C'è questa cosa Di dire Togli L'umanità Togli L'idea artistica Perché poi è tutto Il processo creativo Che viene meno Si togli Le cose interessanti E lì Veramente Avevo letto Un'intervista Di qualche tempo fa Di uno dei fratelli russo Che sono sempre Quelli dei film Marvel Ma comunque incredibile Sono sempre loro in mezzo Che dicevano che Loro sono in una grossa Holding Di una grossa roba Di aziende Che stanno cercando Di fare delle robe E la cosa che gli chiedo Un più spesso Leggevo È L'arrivare A una sorta Di Netflix In cui Tu utente Scrivi Voglio vedere un film Con un gattino Che vola In un Pianeta alieno E lì Ti crea Questo film Questa cosa è Spaventosa Nel modo Peggiore Possibile Questa cosa è Secondo me È pornografia Quello A quel punto Perché è semplicemente Semplicemente quella roba Ti fanno vedere Quello che vuoi Ti accontentano Esatto Però non c'è più niente da dire Non c'è più arte Non c'è più Non c'è più espressione Personale E lì a Temo che possa portare Un pochino A quella cosa lì Magari non fino a questo punto Spero Se serve a Facilitare il lavoro Dell'artista Perché no Certo Se serve solo a quello Assolutamente Se però deve sostituire Delle cose importanti Di un film Di un racconto Di un videogioco Mi spavento No Secondo me Quel Silent Hill Che citavo prima Il primo Silent Hill Il primo Silent Hill È decente Però Non mi vengono in mente Molti altri Esempi virtuosi In tal senso Magari me li dimentico A te viene in mente qualcosa Mi sono divertito Guardandolo Però più perché Sono cresciuto Anche con quel personaggio lì Però se lo guardo Con occhio critico È un po' Uno spot Di Super Mario Non è che mi sta raccontando Qualcosa Poi tu mi direi Giustamente Cosa devi raccontare Con la storia di Un uomo Un idraulico Che Deve Deve salvare Però Comunque qualcosa Puoi raccontare Secondo me Anche in quel caso E l'ha dimostrato Non so La Pixar Che fa Fa film d'animazione Che sono Sì anche per bambini Ma hanno sempre qualcosa Di importante A raccontare Lì non ce l'ho visto Lì ci ho visto Uno spottone A Super Mario Arcane devo dire Che ho visto dieci minuti E mi sono annoiato Me lo spero Però magari Non so Non mi piace molto L'elemento estetico Paradossalmente Che amano moltissimo Moltissimi Di Arcane Mi sembra la cutscene Di un videogioco E in un film Non voglio vedere la cutscene Di un videogioco Voglio vedere del cinema Cioè voglio vedere qualcosa Di un po' più Però quello è anche gusto E anche gusto personale Va bene Se non ci sono altre Interventi Domande Io A questo punto Ringrazio Alessandro Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi Di aver partecipato Giù c'è il rinfresco Ci vediamo venerdì Grazie Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi Grazie a voi